Ciao, sono Simone Dodi, capitano della formazione Brecchi del Parma. Io e tutti gli altri capitani delle squadre del settore giovanile e Alessandro Lucarelli questo weekend indosseremo le fasce di capitano della Joy Cut e lo faremo a sostegno della loro campagna. Siamo tutti capitani perché asperando all'eccellenza e perfezionandosi ogni giorno possiamo diventarlo tutti.